L'ordine del giorno rega l'audizione del dottor Leonardo Leone De Castris, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a cui do il benvenuto e che ringrazio per la disponibilità. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web tv. Do la parola per la sua relazione al dottor De Castris che ringrazio per la cortesia e disponibilità. Grazie a lei Presidente. Io ho consegnato adesso al Presidente una relazione di dettaglio in modo da non sottoporvi a una inutile e noiosa elencazione di nomi, fatti, eventi, anche distribuzione geografica dei gruppi criminali di maggiore interesse. Lì troverete tutte le informazioni più importanti e così potrò concentrarmi su una descrizione di massima dei fenomeni ed ovviamente essere pronto a rispondere a vostre eventuali domande. Io non so se il Presidente o qualcuno di voi gradisce un velocissimo discursus o comunque valutazione di carattere generale che come forse, anzi sicuramente saprete, per avere svolto le audizioni del distretto di Bari e quindi anche del territorio di Foggia, la Puglia è veramente divisa in due da un punto di vista della struttura e dell'organizzazione e delle organizzazioni criminali. Nel senso che mentre nell'eccese, col fenomeno della comparsa della Sacra Corona Unita a metà degli anni Ottanta, si è sempre avuta una struttura sostanzialmente verticistica, un po' simile a quello che succede in Calabria ancora oggi, cioè famiglie strutturate sul piano territoriale ma sostanzialmente riconducibili a un'unica gerarchia, a un'unica punto di decisione di vertice. A Bari e a Foggia, e adesso anche nella BAT, che è un po' un allarme di questi giorni, la criminalità, anche se organizzata e certamente strutturata con mentalità e modalità di azione mafiosa, secondo proprio i parametri del 416 bis, è sempre stata un po' più indipendente, divisa per famiglie in guerra o in pace a seconda dei momenti storici, e delle esigenze commerciali, ma non vi è mai stata una figura di vertice gerarchica in grado di dare una connotazione unitaria ai fenomeni. Dai primi anni 2000, questa caratteristica di gerarchia e di riferimento di vertice sta avvenendo meno, sta avvenendo meno sempre di più, anche nel Salento, per differenti ragioni. Intanto una progressiva perdita di capacità di controllo del territorio. Questo è avvenuto principalmente perché il mercato degli stupefacenti, che come sapete è il core business ormai di tutte le organizzazioni criminali, per ragioni geopolitiche deve necessariamente confrontarsi con la criminalità albanese, per quanto riguarda noi. Questo sicuramente per la cannabis, per la marijuana, e in ultimo anche per l'eroina, ci torneremo fra un attimo. Per quanto riguarda la cocaina, come sapete la leadership mondiale di approvvigionamento dai paesi del Sud America è in mano all'andrangheta, e quindi ogni acquisto, anche da parte dei clan pugliesi, viene fatto in Calabria o a Milano da famiglie calabresi. Vi dicevo, questa fortissima presenza sul mercato delle organizzazioni mafiosi albanesi ha comportato una sostanziale perdita del territorio. Una volta che non sei più monopolista di un qualche cosa di criminale, perdi il controllo del territorio. Lo perdi tanto in termini di autorità e quindi di riconoscibilità all'esterno, tanto in termini proprio di intervento, di possibilità di intervento diretto. L'altro grande fenomeno massivo criminale, giuridico criminale, che ha fatto sì che l'organizzazione perdesse di importanza, anche a livello comparativo con altre organizzazioni italiane, ma soprattutto di autorevolezza al proprio interno, è stato il fenomeno massiccio del pentitismo, cioè di collaborazione con la giustizia, che ha caratterizzato questa organizzazione mafiosa. Cioè noi negli anni 90 abbiamo avuto, non credo si sia arrivati a numero di cento, ma insomma parecchie decine di collaboratori, peraltro tra i quadri di vertice più importanti, che ha fatto sì che, per dirla in soldoni, nessuno si fidasse più di nessuno, si è potuto intervenire velocemente su un fenomeno non ancora radicato culturalmente nella società. La Puglia non è una regione culturalmente mafiosa, nella società che è sana, nella società e nell'economia, e questo ha fatto perdere molto appeal all'organizzazione mafiosa. Ma vi dicevo, questo problema della contiguità geografica e anche della contiguità criminale con i clan albanesi, per noi è stato, ed è, un grosso problema, soprattutto adesso che è massicciamente tornata di moda l'eroina. Questo adesso, diciamo, non spetta a me parlarne, nel senso che il risvolto sociale non è di competenza di un procuratore della Repubblica, però veramente costituisce un allarme da un punto di vista anche proprio socio-sanitario. Voi ricorderete tutti che cosa è stata l'eroina negli anni 80 nel nostro Paese, anche negli anni 70. All'epoca era gestita interamente da Cosa Nostra, e si trattava di eroina bianca proveniente dal triangolo Laos-Birmania-Cambogia. Adesso quella rotta non arriva più in Europa, riguarda i Paesi dell'Est e in parte gli Stati Uniti. Questa eroina Brown si coltiva fra la Turchia, la Macedonia e in parte l'Afghanistan e l'Iran e viene purtroppo raffinata vicinissimo a noi. Le emergenze processuali ci dicono che questa attività avviene prevalentemente in Albania e Macedonia. E di ieri l'ultimo sequestro, dopo una lunga indagine che ha interessato soggetti albanesi come sempre, che è di 17 kg di eroina che costituiscono un quantitativo assolutamente superiore alle esigenze del mercato pugliese. Quindi in prospettiva c'è da immaginare che questa sostanza dovesse contribuire a invadere altri mercati dello Stato. ma questi sequestri ormai purtroppo si susseguono al pari, se non di più, di quelli di cocaina dalle nostre parti. Questa perdita di controllo del territorio, ma anche il cambio dell'economia criminale, perché poi, come sapete, certamente le associazioni criminali seguono anche le mode e intervengono nei momenti dell'economia, ha fatto sì che la vecchia figura, la vecchia modalità di aggressione del territorio, e quindi estorsioni, mi riferisco al pizzo, da noi, salvo in alcune realtà molto degradate, come per esempio nella provincia di Foggia, ma da noi, tranne alcune zone di Taranto, e forse residualmente alcune zone del Brindisino, il fenomeno del pizzo è praticamente scomparso, o comunque è residuale. Così come sono molto ridotte le rapine, così come peraltro sono quasi scomparsi i fatti di sangue. Quest'anno c'è stata una leggera controtendenza, perché in tutto il distretto, quindi quando parlo di distretto ovviamente mi riferisco a Lecce, Brindisi e Taranto, che è quello di mia competenza, abbiamo avuto tre omicidi, diciamo, di carattere paramafioso, uno sicuramente di carattere mafioso, cioè di contrasto fra organizzazioni del posto, e due paramafioso. Però negli anni precedenti abbiamo avuto zero, uno, che a confronto negli anni 90, dove avevamo due omicidi a settimana, perché c'era da parte loro la necessità di affermare la primazia. Oggi questo non c'è più, e c'è invece questo massiccio, massiccio e veramente preoccupante, il fenomeno del riciclaggio, del reinvestimento di questa enorme liquidità che deriva dal traffico di stupefacenti. Enorme liquidità, parliamo veramente di cifre, perché ovviamente essendo un punto di transito una parte cospicua viene destinata al mercato locale, ma una parte transita, parlo di marijuana ed eroina, comportando senz'altro grandissimi guadagni. Ecco quindi che, venuti meno i fatti di sangue e i fenomeni di aggressione del territorio, noi, come organo inquirente del territorio, ci stiamo orientando nel colpire il riciclaggio. Da un lato con indagini giudiziarie, da un lato con sequestri di patrimoni, sia nel processo, sia fuori nel processo, con le misure di prevenzione. Sono attività importanti per una regione che non vive di industria e non vive neanche più di agricoltura. Sapete che il dramma dell'Axilella, che non so quanto si riesca a leggere all'esterno, però noi che viviamo vediamo che non soltanto il paesaggio ha subito una trasformazione mostruosa, scusatemi il termine, ma anche l'economia, l'olivocoltura era una cosa molto importante nel territorio salentino. Ma dicevo, a parte questo, comunque, la ricchezza prodotta, diciamo, il PIL della zona della geografia, della nostra geografia, è sostanzialmente il turismo, e quindi le attività connesse, che sono veramente aggredite dalle organizzazioni criminali, il turismo con quello che comporta, quindi gestione dei lidi balneari soprattutto, ristorazione, questo brutto termine con cui si indica l'andare per discoteche, il divertentismo, e quindi la gestione dei parcheggi, e qui ci sono anche responsabilità delle amministrazioni locali, ovviamente. Il gaming, e quindi tutta l'attività di scommesse clandestine e di gioco nelle macchinette di videopoker, il ciclo dei rifiuti, la security, le frodi per gli idrocarburi, le cosiddette pompe bianche, che sono veramente un problema importante come evasione soprattutto, e in questi anni, ovviamente, come un po' dappertutto, i bonus edilizi, per i quali in gran parte le associazioni criminali si sono impegnate in maniera massiva. Quello che più preoccupa dal mio punto di vista, ma ve lo pongo come tema, nel senso che voi rappresentanti politici potete fare tanto da questo punto di vista, è che in ogni indagine che riguarda un periodo subito precedente o subito successivo a una tornata elettorale, veramente noi veniamo sempre in contatto attraverso attività intercettiva con situazioni in cui è evidente il rapporto fra organizzazioni criminali e candidati. È un fatto che riguarda principalmente, anzi direi esclusivamente, le elezioni amministrative ed è un fatto che riguarda trasversalmente tutte le forze politiche, quindi non vi aspettate da parte mia uno spunto di questo tipo, anche perché non c'è obiettivamente, però è un campanello d'allarme che io mi sento di rivolgervi, perché certamente le forze politiche possono fare tanto da questo punto di vista nella selezione dei candidati. E il risvolto della medaglia, cioè la cartina di tornasole, si vede nel momento in cui, in molte realtà, in molte amministrazioni locali, questo credito che le organizzazioni criminali acquisiscono ritorna in termini di affidamento di servizi, di piccoli appalti, parliamo di piccoli appalti, le organizzazioni criminali pugliesi non sono riuscite a entrare nel giro dei grandi appalti, non ne hanno la forza, non hanno la cultura, non hanno la capacità relazionale per sedersi a un tavolo di questo tipo. Però parcheggi, servizi cimiteriali, mense, questo tipo di attività sono a volte inquinate in modo preoccupante. Ripeto, in molte indagini si è avuto sentore o anche prove, ci sono procedimenti in corso e anche procedimenti conclusi che lo hanno dimostrato o che ci stanno portando a ipotizzare queste attività. Per quanto riguarda l'attività investigativa, è venuto meno il periodo del pentitismo, che ripeto ha caratterizzato tutti gli anni 90, un po' perché la legge, come sapete, ha stretto molto le maglie e quindi è diventata meno attrattiva per un aspirante collaboratore, un po' perché obiettivamente venuti meno gli omicidi e quindi anche il timore di subire delle pene dall'ergastolo in giù, ma insomma comunque cospicue, devo dire che l'aspettativa e quindi la necessità di collaborare con la giustizia da parte di soggetti criminali è divenuta meno attrattiva. L'attività di indagine principale, oltre a quella degli accertamenti patrimoniali e di tutte le modalità con cui si riesce a colpire i patrimoni illeciti accumulati, è quella intercettiva. Ne chiacchieravamo prima col Presidente, ma molto velocemente. Adesso il tema, come sapete, è quello delle piattaforme informatiche, perché man mano che le indagini si concludono e i procedimenti si fanno, la criminalità organizzata impara a difendersi dall'invasività degli ascolti e quindi per telefono non parla più nessuno da decenni, salvo rare eccezioni. Con le intercettazioni ambientali si riesce a ottenere dei risultati, ma i criminali hanno imparato a bonificare periodicamente le autovetture o gli ambienti. Il Trojan funziona a meraviglia, il captatore informatico, ma è molto difficile inocularlo nei device o negli apparecchi telefonici, quindi non sempre si riesce, ma comunque le organizzazioni criminali hanno imparato, i rappresentanti hanno imparato a lasciare il telefono da qualche altra parte prima di parlare. E quindi il ricorso massiccio da parte loro è a queste piattaforme informatiche che consentono conversazioni criptate. Immagino che nell'audizione del procuratore nazionale Melillo questo tema sia venuto fuori, però è il tema del momento, perché non potrei dire quale percentuale, ma sicuramente la gran parte delle transazioni internazionali che riguardano il traffico di stupefacenti avviene su queste piattaforme, che in alcuni casi sono state bucate, termine tecnico, cioè si è riusciti a decriptare queste chat, ci sono riusciti gli olandesi e i francesi principalmente, e ci hanno consentito di portare a termine delle operazioni molto importanti, perché come potrete immaginare, avendo la certezza di parlare in cripto, le conversazioni sono di assoluto interesse. La cocaina viene chiamata cocaina, gli euro o i dollari vengono chiamati con il loro nome, gli appuntamenti per gli sbarchi si danno nel giorno e nell'ora esatta, e quindi si sono potute chiudere decine e decine di indagini, con decine e decine di arresti anche di personaggi veramente importanti della criminalità. C'è un tema, ed è che la giurisprudenza in questo momento è veramente oscillante sull'interpretazione dei provvedimenti con i quali acquisire queste chat, si tratta di chat e non di intercettazioni. E vi è una sentenza veramente degli scorsi giorni della Cassazione che ha dichiarato inutilizzabili questa documentazione, queste chat, in un importantissimo processo di narcotraffico, mettendo in libertà un soggetto appartenente all'andrangheta, dove si sostiene che anche l'attività di acquisizione all'estero che si fa con ordine investigativo di indagine e che per norma durante le indagini preliminari è chiesta dal pubblico ministero, diciamo anche questa attività deve essere autorizzata dal giudice. Siamo in un campo aperto, nel senso che non c'è una norma di legge che lo stabilisce, quindi è una interpretazione giurisprudenziale. Però se le sezioni unite, a cui il tema è stato rimesso, perché vi è un contrasto all'interno della stessa Cassazione, decideranno che così è, e questo avverrà a giorni, potranno essere annullati o resi inutilizzabili prove acquisite dal 2021 al 2023. Parliamo di decine di procedimenti contro mafiosi, indranghetisti, soggetti appartenenti alla Sacra Corona Unita, per i quali noi abbiamo ottenuto misure cautelari che sono attualmente detenuti. Da questo punto di vista io mi permetto solamente di segnalare il tema. È chiaro che, come dire, un interessamento da parte vostra e del legislatore sul punto che potesse eventualmente sanare, qualora le sezioni unite dovessero interpretare nel senso che ci voglia l'autorizzazione del giudice, ma che potesse sanare il pregresso, potrebbe consentirci di portare a termine dei procedimenti che, vi assicuro, sono veramente rilevanti. Per il futuro grossi problemi non ce ne dovrebbero essere, nel senso che il Pubblico Ministero chiederà l'autorizzazione al GIP come per una normale intercettazione, non considerando più la chat un mero documento, ma un'attività comunicativa fra persone e quindi necessaria della tutela della riservatezza. Per il passato vi è un grosso problema. Spero che eventualmente il legislatore possa affrontarlo in modo da consentirci di continuare a procedere serenamente per quello che fino a qui è stato acquisito. Certo è che, a parte l'aspetto strettamente giuridico, bisognerà investire in tecnologia, perché non è possibile che vi sia una zona franca nelle comunicazioni dove chiunque può parlare di qualsiasi cosa. Io sto parlando di criminalità organizzata, ma immagino terrorismo. Capirete bene che investire in questa tecnologia informatica significa assicurarci un futuro di permeabilità di tutte queste attività illecita. Mi avvio alla conclusione. C'è il tema delle carceri, non soltanto il sovraffollamento. Il sovraffollamento, che è un problema veramente di difficile soluzione, comporta anche promiscuità. Quindi, per esempio, tutte quelle realtà che non sono 41 bis, ma che, per esempio, sono alta sicurezza, in cui noi mettiamo insieme dieci mafiosi in una cella, comporta necessariamente che questi dieci mafiosi continueranno a gestire traffici all'interno del carcere. Anche perché il tema di allarmante attualità è quello dell'accesso dei telefonini in carcere. Pensate che lo scorso mese solo a Lecce ne abbiamo sequestrati 36. Ma 36, fra telefoni cellulari, microtelefonini, telefoni che consentono l'accesso a internet e anche telefoni criptati che consentono l'accesso alle piattaforme di cui parlavamo prima, 36 sono stati sequestrati, ma immagino quanti ancora ce ne possano essere. E qui, certamente, bisognerà intervenire tanto sull'efficacia dei controlli, ma tanto soprattutto, purtroppo sembra una battuta, ma sull'accesso dei droni all'interno dei perimetri carcerari. Molti di questi telefonini, insieme allo stupefacente, sono trasportati con i droni. Manovrati dall'esterno, arrivano in prossimità delle sbarre, il detenuto lo prende e il drone torna al suo proprietario. Io adesso non so se esista un sistema tecnico di schermatura per il funzionamento dei droni, oppure se sia praticabile, e questo andrebbe visto anche con le norme che assicurano la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, se sia praticabile una schermatura per impedire le comunicazioni dei cellulari, anche se questo investirebbe anche le comunicazioni dei cellulari degli agenti di custodia. Quindi è un tema delicato. Però certamente, vi assicuro, ogni attività intercettiva di ogni procedimento si scontra con delle conversazioni fatte all'interno del carcere. Cioè è prassi, è una norma assolutamente codificata. Quindi su questo in qualche maniera dovremo intervenire. Se serve qualche cenno sul sfruttamento dell'immigrazione clandestina, non so, Presidente, se è un tema che può... Perché comunque è un'attività di competenza della Procura Distrettuale, quindi noi ci occupiamo prevalentemente del tacco della Puglia, quindi la zona che va da Otranto a Santa Maria di Leuca. E questa è una zona interessata da un flusso migratorio poco noto, nel senso che non ci sono i numeri tutti insieme come quelli che siamo abituati a sentire per quanto riguarda l'amperusa o comunque l'immigrazione dalle coste nordafricane. Da noi arrivano barche a vela di 13-15 metri con 50-60 persone a bordo, però è un traffico costante, quindi alla fine i numeri sono significativi. Ed è un traffico che come rotta riguarda come zona di partenza la Turchia, in parte anche la Grecia, e che a seconda dello spirale dei venti riguarda la costa pugliese, in particolare Santa Maria di Leuca, o la costa ionica calabrese, in particolare il distretto di Catanzaro, Cutro per intenderci. È la stessa rotta. Noi abbiamo fatto un'indagine negli altri anni, si chiamava Astrolabio, che Eurojust ha definito come la più importante a livello europeo, nel senso che abbiamo individuato organizzazioni stabilmente dedite a questa attività, stabili in Turchia. Abbiamo anche fatto il processo, sono stati condannati, però la difficoltà, la difficoltà vera, concreta, è che la Turchia non è collaborativa. E la Grecia lo è scarsamente, non per cattiva volontà, come dire, degli organi dello Stato, ma proprio per difficoltà procedurali. Il punto è che, non soltanto come la si voglia pensare sull'immigrazione clandestina, questo comunque è un fenomeno criminale, parlo ovviamente dei gestori del traffico, ma la mia preoccupazione è che in questi tempi possa essere anche un tramite di soggetti vicini al mondo dello jihadismo islamico. Premetto che, veramente non mi permetto di fare alcun accostamento fra fenomeno migratorio e terrorismo, perché non c'è, obiettivamente non c'è, nel senso della nostra percezione giudiziaria. Però quella è una rotta che riguarda soggetti provenienti dalla Siria, dall'Iraq, dall'Iran e dal Pakistan. Quindi capirete il cuore al momento dello jihadismo. Noi abbiamo fatto un protocollo con le forze di polizia che prevede che al momento dello sbarco questi immigrati vengano possibilmente tutti identificati, considerate che ovviamente non tutti hanno i documenti, alcuni ce li hanno falsi, ma che vengano anche intervistati sulla loro prevenienza, sulle ragioni del viaggio, su eventuali parenti che possano avere in Europa, in modo comunque da cercare di capire quali sono le motivazioni del viaggio, se economiche, se politiche, se da rifugiati, perché sono paesi da cui certamente si fugge, perché c'è un evidente deficit di democrazia. Però questa è un'attività che è difficilmente indagabile, un po' perché appunto i paesi non sono estremamente collaborativi, un po' perché ovviamente non può che fermarsi all'arresto degli scafisti, non potendo noi andare oltre, tranne, ripeto, questa indagine che è stata utilissima, ma che certamente ha svuotato il mare con un bicchiere per quanto riguarda la disponibilità di barche e l'interesse di organizzazioni criminali a gestire il traffico. Presidente, mi fermerei qui se ci sono delle domande, ovviamente. Grazie mille, ci ha dato diversi spunti molto interessanti, credo. Allora, se ci sono colleghi che vogliono intervenire, prego, onorevole Congeto. Sì, grazie Presidente, grazie al procuratore Leonardo Leone De Castis per questa relazione. Voglio partire da uno spunto del procuratore, nel corso della sua relazione, nell'inquadrare il fenomeno criminale nel suo distretto, quindi Lecce, Brindisi e Taranto, ha sottolineato in un passaggio che per me è stato molto significativo del fatto che la criminalità non ha attecchito sul territorio, non solamente per, lo voglio sottolineare, anche esprimendo sentimenti e graditudini alla magistratura e alle forze dell'ordine che sono riusciti sostanzialmente a forza disarticolare, non so se questo termine è proprio, ma anche di un tessuto socio-economico-istituzionale che si è sostanzialmente dimostrato impermeabile a delle infiltrazioni di carattere mafioso. Il Salento, obiettivamente, anzi il grande Salento, intendendo con questo termine il distretto Lecce, Brindisi e Taranto, credo non sia più procuratore quello degli anni 80-90, del tentato a strage a Lecce-Milano, della strage alla Gottella, per i colleghi che non la conoscono fu un assalto a un portavolori che vide tre vittime tra i vigilantes, comunque degli omicidi che le ricordavano, una media molto alta. Allora, la domanda che vorrei farle, procuratore, è questa. Si può parlare di disarticolazione, di quella struttura verticistica che in quegli anni 80-90 ha tentato, diciamo, di aggredire, di controllare il territorio, se non di disarticolazione, di ridimensionamento della sua capacità criminale, o il fatto che, sostanzialmente, superati quegli anni, si assiste a fenomeni sempre più rari di reati e ferati, o addirittura di omicidi. Ricordava lei, insomma, tre negli ultimi anni, rispetto al passato, sono una misura, un numero abbastanza esiguo, o come è successo in altre realtà del territorio, ce lo ricordava anche il procuratore nazionale, la criminalità è stata capace di evolversi, e quindi di sostituire agli omicidi, al sangue, un interesse affaristico, investendo, riciclando, come lei ha ricordato nella sua relazione. seconda questione, quindi la prima è, sostanzialmente, è ridimensionato il fenomeno, o rimane sotto, diciamo, vesti diverse, continuando ad avere la sua struttura verticistica. A suo parere, la criminalità del suo distretto è una criminalità in grado, come dire, di competere con altre criminalità sotto il profilo di investimenti finanziari sofisticati, di aggressione, di finanziamenti nazionali, europei, di accaparrarsi a palti, di magari, non lo so, investire in cyber risiclaggio e cose di questo genere. Grazie mille, faccio rispondere se ci sono altri che vogliono intervenire. Sì, dimenticavo, insomma, di complimentarmi col procuratore per l'operazione di IEL, insomma, condotta dalla DDA di Lecce e dal comando provinciale Carabinieri, 37 arresti. Le faccio fare anche l'onorevole Gallo così ne fa due insieme. Più che una domanda con una sollecitazione a fissare un punto. Lei ha sollevato una questione molto anche urgente, cioè questo problema che si verrebbe a creare sulla utilizzabilità delle conversazioni, così verrebbero definite e non intercettazioni in senso stretto quindi con un punto comunicazioni via chat all'estero tra l'altro che necessiterebbero di che cosa? Vediamo di fissare questo perché io penso che anche il governo che spesso ricorre allo strumento del decreto legge per motivi di urgenza potrebbe per il tramite di questa commissione dei suoi stimati consulenti eccetera andare a fissare il punto. Quindi si tratterebbe di emanare una norma interpretativa in modo che possa valere anche diciamo così con un po' di sforzo e anche con un po' di collaborazione alla causa da parte delle sezioni unite che possa bypassare per usare un termine anglofilo l'autorizzazione del giudice a questo tipo di attività ho compreso bene o no? Prego procuratore Inizio da questa seconda perché essendo più tecnica vorrei dimenticare qualche passaggio allora l'avere bucato si dice così queste piattaforme da parte delle polizie olandesi e francesi ha comportato l'acquisizione di una prova diciamo di un documento costituente una prova all'estero che è stata acquisita secondo norme procedurali consentite nel paese dove questo è avvenuto cioè c'è stato un magistrato che ha dato mandato alla polizia altrimenti la polizia da sola non avrebbe potuto farlo che ha autorizzato questa attività e che quindi l'ha fatta propria ed è diventata una norma ed è diventata una prova acquisita legalmente nel paese di origine per poterla acquisire noi nel nostro procedimento non solo c'è bisogno che questa prova sia stata acquisita legalmente nel paese di origine ma che le modalità di acquisizione siano compatibili con la normativa processuale interna dello Stato allora fissiamo prima questo concetto l'altro è che nel nostro ordinamento le prove acquisite in paesi facenti parte dell'Unione Europea si possano acquisire attraverso ordine investigativo di indagini che è un provvedimento attraverso il quale l'autorità giudiziaria italiana chiede all'autorità giudiziaria del paese che ha acquisito la prova di trasmetterla attraverso canali giudiziari nel nostro paese per poterla utilizzare nel procedimento di interesse la normativa sull'OIE sull'ordine investigativo europeo prevede che nella fase delle indagini preliminari l'iniziativa e quindi la trasmissione sia a cura del pubblico ministero quindi dell'organo inquirente che domina la fase delle indagini preliminari nelle fasi invece successive quindi dopo l'esercizio dell'azione penale sia di competenza o del giudice delle indagini preliminari o addirittura del giudice del dibattimento se si è arrivati a quella fase dal 2001 ad oggi quindi è stato il pubblico ministero a chiedere facciamo l'esempio concreto all'Olanda attraverso ordine investigativo europeo di trasmettere questa documentazione dice dice oggi una sentenza della Cassazione quindi assolutamente non vincolante però precedente importante no in realtà anche nella fase delle indagini preliminari siccome questa attività di scambio di comunicazioni è un'attività di relazione quindi può investire anche situazioni come dire coperte da segreto da informazioni sensibili da privacy ci deve essere un vaglio del giudice non solo del pubblico ministero che parte nel processo giudice terzo ovviamente che deve valutare sia la necessarietà per le indagini sia soprattutto che nel paese ad quem nel paese di origine sia stata rispettata la normativa processuale deve essere un giudice a farlo la questione siccome è controversa all'interno della stessa corte di cassazione è stata mi pare ieri rimessa alle sezioni unite che è l'organo supremo di omofiliachia cioè è l'organo poi deputato a dare un'interpretazione vincolante per tutti i giudici una sentenza di una sezione della cassazione non lo è una sentenza delle sezioni unite lo è come se fosse una norma di legge c'è la possibilità che le sezioni unite aderisca a questa interpretazione c'è pure la possibilità che non lo faccia nel caso lo facesse tutte le prove acquisite tramite intervento e richiesta del solo pubblico ministero dal 2021 ad oggi sarebbero inutilizzabili questo dal nostro punto di vista di motore del procedimento penale di organo investigativo costituisce obiettivamente un danno enorme se sarà così ce ne faremo una ragione per carità evidentemente è stata violata un principio generale che è quello comunque che deve essere consentito sempre un controllo del giudice però spesso il legislatore si è orientato anche attraverso un doppio binario cioè nei processi di mafia e criminalità organizzata ha usato un metro nei processi mettiamo di reati contro la pubblica amministrazione ha usato un altro e nessuno si è mai scandalizzato più di tanto quindi non posso essere io a sollecitare il legislatore a una soluzione però io ponevo solamente la questione giuridica e sì invece per passare alla richiesta del commissario onorevole congedo un po' tutte e due le cose cioè c'è stato un intervento obiettivamente molto significativo delle forze di polizia e coordinate dalle procure della repubblica negli anni 90 considerate che i primi fenomeni mafiosi in Puglia si avvertono a metà degli anni 80 a metà degli anni 80 viene fondata la Sagra Corona Unita con una diciamo con un intento prevalentemente di resistenza verso la probabile invasione di organizzazioni mafiose di Mitrove prevalentemente parlavano della nuova camorra organizzata di Cutolo quindi di organizzazioni campane dopodiché l'organizzazione prende piede e quindi si interessa ai vari traffici della regione però dagli anni 90 ai primi anni 2000 da noi ecco c'è stata una sorta di catena di montaggio indagini rinvio a giudizio processi veramente in forma martellante per cui certamente l'aspetto repressivo giudiziario ha funzionato benissimo anche determinando come dicevo prima parecchi collaboratori di giustizia a fare questo salto e questo da un punto di vista strategico ma anche psicologico dal punto di vista della logica delle organizzazioni ha determinato una frana della tenuta e della struttura questo è stato possibile come diceva l'onorevole congedo anche per una mancanza culturale di strutturazione mafiosa della regione noi non abbiamo avuto la storia i fenomeni della Calabria della Campania della Sicilia soprattutto questa è stata una regione di grandi differenze sociali un grande latifondo o un grande terziario nella provincia di Bari è grandissima miseria e povertà nelle campagne non c'è stata neanche una borghesia che ha potuto diventare una borghesia mafiosa come per esempio a Palermo quindi l'intervento repressivo l'intervento giudiziario ha avuto direi gioco facile se fatto bene nel senso che ha completamente mandato per area una struttura che era solo militare non era culturale non era permeata nella società se questo è vero però è anche vero come dicevo prima che fattori esterni fattori geopolitici per esempio la lunga vicenda del contrabbando di sigarette che uno pensa sia stata una sciocchezza in fondo che cos'era un'evasione delle accise il contrabbando di sigarette è stata un'attività che per tutti gli anni 80 e 90 ha introitato nelle casse delle organizzazioni mafiose pugliesi e campane miliardi di lire nella sola città di Brindisi vivevano 5.000 famiglie sul contrabbando di sigarette che cosa è successo due cose da un lato un mutamento geopolitico perché quello che era possibile fare in Montenegro e in Albania cioè stoccare le sigarette e farle andare a prendere i contrabbandieri non lo è stato più con i cambi appunto di regime dall'altro un intervento dello Stato nel 2000 con l'operazione primavera lo Stato ha deciso di intervenire duramente cambiando la normativa che prima consentiva solamente una pena pecuniaria figuriamoci se i contrabbandieri si spaventavano di una multa e che poi ha introdotto pene detentie ma soprattutto ha consentito di sequestrare le imbarcazioni che scandalosamente facevano bella mostra di sé in tutti i porti pugliesi come se fosse diciamo un settore nautico dedicato al diporto sono spariti i banchetti di sigarette dalle strade che era un altro scandalo francamente quando lo Stato si mette si mette e quindi diciamo fattori geopolitici ma anche fattori di convenienza commerciale c'è una tale possibilità di gestire il traffico di stupefacenti con guadagni così grandi che francamente il ricorso alle lotte intestine per la supremazia del territorio non ha avuto più convenienza tra l'altro attirava l'attenzione della polizia della magistratura molto più che trasportare un chilo di cocaina in una macchina quindi credo che le organizzazioni criminali abbiano fatto anche questa valutazione il cittadino certamente si sente meno spaventato cioè un traffico di droga non è invasivo da un punto di vista della sicurezza sociale come l'estorsione o il pizzo che prevede anche il danneggiamento con esplosivo o una rapina in armi in una gioielleria questo sapete non è avvenuto nella provincia di Foggia ma ripeto sono fenomeni situazioni e anche culture molto diverse sembra di stare in due nazioni diverse noi in due regioni diverse ho ancora iscritto il vicepresidente Dattis la senatrice Rando il vicepresidente Derao e il senatore Salemi facciamo due Dattis Rando e poi gli altri due prego intanto grazie per aver accettato l'audizione molti colleghi non lo sanno ma io sono di Brindisi quindi quando lei raccontava questo ricordo di me adolescente con queste scene che lei ha ben riprodotto quindi diciamo lo Stato ha fatto tanto amico di famiglia di uno dei quattro finanzieri della famosa punto speronata dai contrabbandieri che poi portò all'operazione primavera quindi grazie per aver diciamo ufficialmente rispolverato anche un ricordo brutto per l'epoca ma bellissimo per oggi perché parliamo di un clima completamente cambiato due domande qual è il grado di infiltrazione secondo lei ancora nell'area presente nelle pubbliche amministrazioni non mi riferisco soltanto ai politici ma anche proprio alle strutture della pubblica amministrazione e secondo rispetto anche alla storia dell'evoluzione del particolare della Sacra Corona Unita ci sono o ci potrebbero essere rischi derivanti dal fatto che molti di coloro che furono condannati potrebbero aver scontato diciamo le pene e quindi come posso dire rientrare in circolo rispetto anche agli assetti nuovi che probabilmente si sono creati da quello che lei diceva anche nell'evoluzione della gestione proprio degli affari che si è concentrata su su altro grazie Senatrice Rando grazie grazie a procuratore grazie anche per la fotografia e la puntualità insomma nel farci comprendere un po' la particolarità diciamo della mafia di quel territorio una cosa mi ha un po' impressionato rispetto un po' a quello che conosciamo insomma degli altri territori quello che le diceva 100 collaboratori ci sono stati diciamo in quel territorio in quegli anni in un momento in cui invece l'Andrangda conosceva meno diciamo collaboratori la mafia solo dopo le stragi ne ha conosciuto tanti c'è stato quel momento così ecco e questa cosa diciamo oggi e allo stesso modo si può misurare in questo in quel territorio ci sono ancora tanti collaboratori rispetto diciamo ai parametri degli altri territori e anche su questo mi piaceva una sua riflessione diciamo una valutazione rispetto alla legislazione sui collaboratori di giustizia oggi è ancora attuale diciamo bisognerebbe farci una riflessione l'altra cosa è che lei un po' ci rappresentava il rapporto diciamo tra la politica e le organizzazioni criminali specialmente nell'avvicinarsi diciamo delle elezioni questo rapporto diciamo continua poi è più sistemico anche dopo perché conosciamo che in Puglia sono stati sciolti 25 consigli comunali di cui 14 mi pare tra il 2018 e il 2022 questo c'è un riferimento diciamo e poi un'altra cosa che mi incuriosiva rispetto agli altri territori è la politica che un po' cerca l'organizzazione criminale nel ricerca del consenso o viceversa e il rapporto con la zona grigia un'altra cosa che i beni confiscati e il rutilizzo social in quel territorio è un tema importante che sono un po' le misure di prevenzione di cui lì ci ha parlato esistono criticità esiste invece su questo un riutilizzo sociale invece che ha anche un risvolto sociale importante e un'altra cosa rispetto abbiamo visto in altre audizioni un po' quello che la storia ci racconta in questo territorio in questo paese c'è una fascinazione delle mafie rispetto al mondo giovanile lei parlava dell'aumento insomma delle droghe delle droghe l'eroina e questo sappiamo quali sono i danni sociali ma si è abbassato diciamo il reclutamento delle audizioni criminale rispetto all'età minorile questo è un fatto anche importante che bisognerebbe riflettere credo che il legislatore su questo avendone maggiore conoscenza dovrebbe agire ancora le mafie nelle sue forme lei ce l'ha detto in tutti i modi insomma oggi non sparano perché non gli conviene oggi corrompono quindi gli conviene più corrompere questa non diciamo apparire non crea problemi di ordine pubblico lo diceva ma ci deve stare stare molto più attenti grazie grazie mille prego procuratore così poi lasciamo agli altri due sì l'onorevole Dattis sì mi ha chiesto della contiguità con la pubblica amministrazione ma ripeto intanto questo lo voglio sottolineare anche perché la Puglia è un po' un arcobaleno dal punto di vista per fortuna insomma della presenza delle forze politiche riguarda purtroppo in maniera trasversale un po' tutti ma soprattutto nelle piccole amministrazioni devo dire nelle grandi città fenomeno molto raro si è capitato qualche riferimento non ci sono procedimenti in corso e diciamo quelli che ci sono stati negli scorsi anni non hanno dato grandi esiti da questo punto di vista c'è una grande corruzione nella pubblica amministrazione diciamo a parte la politica che qualcosa che riguarda ripeto il periodo elettorale e si avverte nettamente il profumo dello scambio quindi tanto promesse di voti tanto proprio campagne elettorali gestite direttamente dai malavitosi nei servizi quindi attacchinaggio di manifesti presenza ai comizi anche episodi diciamo di intimidazione e violenza nei confronti degli avversari però ecco invece come dire ma questo è un problema che riguarda tutto il paese la presenza di metodi modalità corruttive nella pubblica amministrazione è endemico nel nostro paese è presente in tutte le categorie noi veniamo a Lecce da un'esperienza dolorosissima di indagini nei confronti di magistrati del distretto di Bari noi abbiamo competenza sul distretto di Bari Bari Foggia e Trani in cui è stato disvelato che sentenze venivano vendute in cambio di contanti cioè non di vacanze favori parliamo di cash ecco io non non pensavo cioè nella visione più pessimistica che avevo di questo lavoro non potevo immaginare una cosa del genere ce n'era uno che collezionava 1400 armi clandestine e vendeva le proprie sentenze per comprare le armi clandestine quindi diciamo forse è un qualcosa che riguarda un po' la cultura del nostro paese immagino che all'estero sia un po' diverso oppure non ci si arriva con le indagini non so rispondere la sensazione è che stiamo peggiorando da un punto di vista proprio dell'etica della cosa pubblica quindi sia della politica sia della pubblica amministrazione cioè il principio del servizio è un po' venuto meno non so dico delle cose forse di un'ingenuità disarmante però ne parlo da cittadino non tanto da pubblico ministero quello che io avverto il disagio che io avverto nel corso delle indagini è proprio questo cioè che non ci sia più una stella polare che ci indichi la via dell'etica questo poi si ripercuote nei comportamenti e anche nei provvedimenti amministrativi che sono in parte in qualche volta palesemente orientati da questo interesse i collaboratori di giustizia sono drasticamente ridotti però è un fenomeno nazionale questo quindi non lo delimiterò alla Puglia a Calabria ce ne sono sempre stati pochissimi veramente sulle punte sulle dita di una mano ma perché lì c'è una struttura prevalentemente familistica nelle Endrine nei locali di Andrangheta che costituisce una remora ancora maggiore io più difficilmente tradirò mio fratello mio cugino mio zio perché c'è un patto di sangue c'è probabilmente una cultura mafiosa più stringente che impedisce questo la legge ha imposto delle maglie più stringenti non cambierei niente della legge francamente mi vede d'accordo tanto che vi debba essere un tetto temporale per l'acquisizione delle dichiarazioni di 180 giorni non ci possono essere dichiarazioni infinite cioè non può un collaboratore dopo due anni venire al processo e dire ah mi sono ricordato che anche Sempronio era con me quella sera a fare l'omicidio incrina la credibilità sua e del procedimento tanto mi trovo perfettamente d'accordo la norma che prevede la necessità di consegnare i beni e quindi dichiarare il patrimonio acquisito illecitamente forse lo dico con un punto di malizia forse è stata questa la ragione principale della riduzione delle vocazioni fermo restando che per noi l'istituto del collaboratore di giustizia ha consentito la chiave di volta e la chiave di ingresso perché l'intercettazione e l'acquisizione documentale ti può dare il tempo reale cioè la cosa che sta per succedere la chiave di lettura dell'organizzazione mafiosa te la può dare il collaboratore di giustizia esclusivamente e chiaramente poi il compito del magistrato è della sua professionalità stabilire chi mente chi non mente quello è un punto di grande delicatezza il riscontro obiettivo e soggettivo delle dichiarazioni qualifica la figura professionale del magistrato c'è chi se la beve tutta c'è chi va a fondo e cerca le contraddizioni fa l'avvocato difensore cioè opera sostanzialmente una prova di resistenza della dichiarazione e questo è il nostro compito però ripeto dipende veramente dalla nostra professionalità da noi lo dicevo prima non c'è stato un rapporto contiguo tra criminalità organizzata e politica che abbia potuto segnare l'una o l'altra c'è un rapporto episodico con le piccole amministrazioni ma ripeto mancando una cultura criminale di fondo nella nostra regione questo ha potuto incidere poco e per questo motivo che l'organizzazione è rimasta fuori dai grandi appalti per tornare su Brindisi per esempio ricordo la più grande centrale a carbone d'Europa a Cerano che è stata costruita alla fine degli anni Ottanta e lì le organizzazioni criminali che pure erano all'apice della loro potenza forse hanno anche tentato di entrare nei subappalti ma sono state respinte forse sono state respinte perché lì c'era ancora il sistema dei partiti che bastava a se stesso della prima repubblica e sappiamo che in molti appalti di perlomeno di quelle dimensioni alcuni partiti hanno guardato con interesse fatto sta che le organizzazioni mafiose sono rimaste esterne sono rimaste a un'attività in quel periodo predatoria alla contrasto per la spartizione del territorio per le estorsioni ai commercianti agli imprenditori e alla vendita di eroina che all'epoca era la sostanza presente sul mercato i beni confiscati sono una realtà molto bella e se non fosse che obiettivamente l'agenzia dei beni confiscati secondo una mia valutazione non funziona come dovrebbe cioè ha una farraginosità nella procedura di acquisizione ma soprattutto di affidamento che fa venir meno l'interesse poi in realtà c'è anche da dire che questi immobili se confiscati e affidati in una realtà commerciale ricca possono avere un senso se confiscati e affidati in una realtà geografica povera ne hanno un altro perché la cooperativa o il privato che si prende in carico un bene confiscato poi deve avere anche una convenienza commerciale a gestirlo altrimenti ovviamente perde di interesse c'è ancora l'affascinazione dei giovani per le organizzazioni criminali questo noi lo verifichiamo anche nell'attività intercettiva sembrerà anacronistico e forse anche ridicolo ma il giuramento di affiliazione è una cosa che continua a rimanere presente nelle modalità di gestione delle organizzazioni criminali ci sono questi con dei ruoli che si riuniscono intorno al tavolo e recitano giuro su questo pugnale di essere fedele al 100% di disconoscere padre e madre sulla punta di questo pugnale bagnato del coltello bruciano il santino questo c'è ancora e chiaramente in un momento di disgregazione della cultura giovanile ricordiamo ricordiamolo sempre questo perché ci serve dare una connotazione sociale alle nostre interpretazioni la criminalità organizzata da noi fra proseliti esclusivamente nelle fasce subalterne della popolazione quello che una volta si chiamava sottoproletariato adesso ha un termine diverso ma comunque nelle fasce della periferia delle fasce dimenticate è chiaramente un giovane che si vede dato che si vede riconosciuta una sua importanza che si vede accomunato e quindi con una logica di solidarietà non per niente molti di questi soggetti fanno parte delle tifoserie calcistiche che è una cosa curiosa ma è la realtà cioè far parte di un gruppo avere un'importanza in un gruppo sentirsi solidale con altri e questo in una fascia sociale disagiata può avere ancora il suo interesse grazie vicepresidente Derao e poi il senatore Salemi bene innanzitutto mi complimento col procuratore che ha svolto un lavoro straordinario sempre nel distretto e alcune domande proprio si riferiscono appunto all'impegno che il distretto ha avuto con riferimento proprio al contrasto alle varie organizzazioni criminali in particolare rapporti fra Andrangheta e clan delle organizzazioni criminali leccesi anche con riferimento a importazioni eventuali di marijuana dall'Albania o comunque dai paesi riveraschi trasfrontalieri rapporti con la Camorra se sono se mi sono state attività investigative che hanno evidenziato l'accordo a volte fra clan del distretto di Lecce e cosche di Andrangheta o clan di Lecce e clan di Camorra per traffici diversi o anche per quanto riguarda l'influenza che possono aver avuto nell'ambito degli istituti penitenziari e se questa eventuale questi eventuali legami si sono proiettati anche nell'ambito dei periodi detentivi in istituti penitenziari anche al di fuori per quanto può essere a conoscenza al di fuori del distretto di Lecce proprio per la relazione direi alle organizzazioni criminali di competenza naturalmente di Lecce una indagine recente della procura distrettuale di Milano evidenziava addirittura una sorta di accordo fra Camorra Drangheta Cosa Nostra per cui erano state fatte tantissime richieste di misura cautelare respinte dal GIP e vi sono ipotesi anche presso il distretto di Lecce di questo tipo poi un'altra cosa mi ha veramente attirato l'attenzione nell'ambito della relazione che le ha depositato e che ho tentato di guardare molto velocemente il sequestro di 2 milioni 650 mila euro presso l'abitazione di Antonio Coluccia quindi prossimo congiunto dell'omonimo capo clan un sequestro nel 9 settembre 2022 quindi recentissimo ecco una detenzione così rilevante di una somma di danaro contante che significato ha è una modalità di custodia o è stato il passaggio di danaro in un certo momento proveniente da piazze di spaccio oppure come è stato ricostruito se si può dire perché si parla di sequestro non so poi a che punto si trovi l'indagine quindi se già gli atti sono depositati un ultimo aspetto già risposto per quanto riguardava i rapporti con la politica alcuni comuni sono stati anche sciolti come si diceva recentemente ecco con riferimento ai più recenti scioglimenti dei comuni vi sono stati rilievi significativi dal punto di vista investigativo lo scioglimento di volta in volta dipendeva un po' dalle indagini o lo scioglimento è stato autonomo rispetto alle indagini ecco solo queste sono le mie domande grazie grazie mille vicepresidente il senatore Salemi mi permetto procuratore solo di ricordarle che il vicepresidente Tattis le aveva chiesto anche sui fine pena sui fine pena sui fine pena sui colori quali che sono per uscire grazie prego senatore Salemi grazie grazie presidente buonasera procuratore grazie in ordine alla droga gli ingenti profitti della vendita provenienti da questa enorme quantità di droga sono reinvestiti in Puglia o altrove che lei magari sappia è sempre riferimento alla droga il corridoio nello specifico con l'Albania la droga proviene la droga proveniente dall'Albania arriva esclusivamente via mare o vi sono altre forme ecco di approdo e tornando un attimo indietro sulla questione dei migranti volevo chiederle se avete contezza di una complicità diciamo di organizzazioni criminali italiane o straniere che orbitano organizzano o favoriscono il traffico di migranti in Puglia grazie grazie mille prego procuratore parto da quest'ultima perché una qualche misura ne ho già parlato noi abbiamo fatto solo siamo riusciti a fare solo un'indagine in cui è emersa una struttura organizzata che risiedeva in Turchia e che vedeva come classico modo di procedere il furto o l'affitto o la finta vendita di barche a vela che partivano dai porti di Bodrun e Marmaris in Turchia e che vedevano quasi sempre come scafisti disperati ucraini o georgiani la modalità era questa quella è una rotta dove dicevo partono migranti medio orientali mediamente abbastanza diciamo facoltosi direi una sciocchezza diciamo meno disperati dei nord africani diciamo con un abbigliamento consono spesso con muniti di telefonini con famiglia e di fatti la circostanza che partissero in 50 su una barca vera anziché in 200 su un barcone sgangherato faceva sì che il prezzo per la trasferta fosse più alto fino a 5000 euro però da un punto di vista investigativo soprattutto i siriani i siriani avevano questa caratteristica però fuggivano anche da zone di guerra e quindi attenzione sono infatti molti di loro poi hanno avuto ovviamente il permesso di rimanere il problema era che aggredire da un punto di vista investigativo serio l'organizzazione comportava la collaborazione del paese interessato cosa che devo dire purtroppo a malincuore la Turchia non ha sempre assicurato anche proprio per la difficoltà di intendersi sulla procedura da adottare quindi l'indagine si ferma quasi sempre all'arresto in flagranza degli scafisti e al sequestro del mezzo che peraltro non ha un grande valore ci sentiamo abbastanza frustrati per questo però obiettivamente con la possibilità normativa che abbiamo non si può andare molto oltre il reinvestimento dei beni il reinvestimento della liquidità ottenuta attraverso lo stupefacente si ferma prevalentemente in Puglia e ne facevo accenno nella relazione iniziale è destinato prevalentemente al settore turistico o paraturistico noi abbiamo parecchi procedimenti in cui vi è prova che questi soldi siano finiti in ristoranti in pub che infestano le città soprattutto il fenomeno della Movida e in buona parte i locali in buona parte sono in mano a vecchi criminali tra l'altro per riallacciarmi al discorso di prima si tratta di vecchi criminali usciti dal carcere di recente che noi monitoriamo e che chiaramente fanno fatica a riprendere il posto lasciato perché parliamo di Ergastolani usciti dopo 26-27 anni o comunque di personaggi che negli anni 90 hanno subito pene a condanne detentive per 20-25 anni quindi sono fuori fuori tempo hanno una mentalità criminale non più adeguata alle circostanze che i tempi impongono però c'è un monitoraggio certamente sono la prova vivente che la pena non rieduca è brutto da dire ma insomma guardiamoci negli occhi veramente sono pochissimi i soggetti che scontata la pena riescono a riciclarsi per usare un termine inappropriato nella vita corrente il problema carcerario deve essere affrontato prima o poi mi rendo conto che parliamo anche di una spesa pubblica che in questo momento lo Stato non può sopportare però il problema delle carceri è vitale noi non possiamo pensare di combattere la criminalità organizzata senza intervenire sul carcere o in termini repressivi mi riferivo ai telefonini o in termini che è certamente più importante di rieducazione della pena che è la funzione che la Costituzione attribuisce alla pena non ci siamo non ci siamo assolutamente poi se dimentico qualcosa ovviamente me lo direte sì allora l'Albania ha un territorio veramente molto grande destinato alla coltivazione di marihuana io credo che se ci fosse un interesse veramente pubblico allo smantellamento della coltivazione della marihuana non sarebbe una grande fatica operare una disinfestazione delle piante in Albania vivono 3 milioni di persone il territorio urbanizzato è molto piccolo queste coltivazioni sono allocate sulle montagne penso che basterebbe un giro di 4-5 elicotteri con un disservante per venire a capo di questo tema però probabilmente il mercato poi si rivolgerebbe a un'altra fornitura quindi ricordiamo che prima del 91 quindi prima della caduta del regime di Enveroc in Albania dove per ragioni come dire di mancata di mancanza di democrazia non era possibile neanche coltivare la marihuana tutto l'approvvigionamento della marihuana avveniva tramite l'Olanda e quindi adesso un grandissimo produttore di marihuana è diventata la Colombia e il Messico quindi il mercato si riorganizza non arriva più esclusivamente attraverso gommoni ma arriva anche per via intraspettiva diciamo così e quindi attraverso i porti o nei doppi fondi dei tir o attraverso macchine per quanto riguarda l'eroina è molto utilizzato il finto copertone cioè nasconderlo nella ruota delle macchine una modalità parecchio efficace anche perché l'odore della gomma dà fastidio ai cani e quindi si mimetizza abbastanza l'odore degli oppiace in linea di massimo per quanto riguarda invece le domande del senatore De Rao tradizionalmente il rapporto fra organizzazioni criminali pugliesi ed calabresi è il momento che segna la nascita della Sacra Corona Unita il fondatore Giuseppe Rogoli negli anni Ottanta strinse un accordo con Umberto Bellocco che è un personaggio carismatico un po' come poteva essere Riina in Sicilia della zona della della Piana della Piana di Gioia Tauro e il quale secondo la letteratura diciamo mafiosa comunque anche le risultanze processuali fu quello che attribuì le cosiddette doti cioè la possibilità a sua volta di affiliare all'organizzazione mafiosa che aveva benedetto con quell'accordo soggetti la Sacra Corona nasce così nasce con un rapporto diretto con l'Andrangheta e chiaramente questo ha segnato anche l'evoluzione dei rapporti per lungo tempo l'eroina è stata acquistata sia dall'Andrangheta che da Cosa Nostra se volete vi faccio un brevissimo resoconto anche di questo negli anni 70 e 80 l'unica eroina che si trovava in circolazione era l'eroina bianca era gestita direttamente da Cosa Nostra che raffinava nelle raffinerie di Trapani di Alcamo e anche di Palermo questa sostanza che veniva attraverso la Puglia anche veicolata in tutta l'Italia dico attraverso la Puglia perché negli anni 80 nel comune di Fasano che è una cittadina a confine fra Brindisi e Bari venivano mandati soggiornanti obbligati Amedeo Pecoraro ma anche Pietro Vernengo che è stato un membro importante della commissione della cupola di Cosa Nostra vi hanno soggiornato e tra l'altro mi date la possibilità di ricordare ricordo molto piacevole l'unica volta che ho conosciuto Giovanni Falcone lui è venuto perché Marino Mannoia che è stato un importante collaboratore aveva dichiarato queste stesse cose cose che dichiarava anche un collaboratore pugliese e cioè che attraverso una pescheria di Fasano questa eroina bianca veniva poi spedita veniva scusate dimenticavo inserita nelle pance dei pesci pensate un po' quindi spedita poi negli Stati Uniti che erano il principale consumatore di eroina negli anni Ottanta del mondo con il venir meno dell'eroina bianca e il sopravvento dell'eroina brown queste forniture venivano anche acquisite dalla Drangheta per i rapporti che vi dicevo prima fino a diventare a Drangheta l'unico fornitore della cocaina quando poi negli anni 90 è diventata la droga lo stupefacente principale e più usato quindi il rapporto con le organizzazioni criminali calabresi è stato sempre assolutamente costante redditizio e anche come dire legato da vincoli di affetto criminale con scambi reciproci di battesimi padrini in ultimo ne abbiamo avuto uno a Porto Cesareo con una località ridente della costa pugliese dove i membri di un'importante famiglia mafiosa leccese hanno ospitato rappresentanti delle famiglie piromalli e mammoliti in occasione di un matrimonio il che dal punto di vista dell'iconografia mafiosa ha un significato molto importante con la camorra i rapporti sono frequenti ma non nell'ambito della fornitura degli stupefacenti bensì di commercializzazione e come dire sversamento di oli esausti quindi di parliamo di rifiuti in particolare con il clan Moccia che come il senatore De Rao ricorderà il clan fra i più egemoni al momento nella provincia di Napoli nelle truffe attraverso i bonus sedilizi e nelle truffe degli idrocarburi la fantasia dei napoletani emerge soprattutto in attività che comportano come dire un esercizio intellettuale un esercizio del cervello e non soltanto una modalità pratica di gestione dei criminali in effetti presso la famiglia Coluccia che è una famiglia assolutamente mafiosa nel senso più classico del termine cioè legata da vincoli famicisti sono decine e decine in Coluccia nella città di Galatina in provincia di Lecce sono stati sequestrati questi 2 milioni e 600 milioni alla fine i primi anni 90 la stessa famiglia Coluccia fu vittima di un sequestro di 3 miliardi di lire che forse all'epoca come potere di acquisto erano ancora di più all'interno di un fienile della propria proprietà loro hanno sempre gestito traffico di qualsiasi tipo di stupefacente e di tutte le piacce di spaccio e evidentemente non hanno molta fiducia nel sistema bancario o tantomeno nel quello del riciclaggio più classico e preferiscono tenere i soldi sotto il mattone però noi li troviamo anche perché lo sappiamo che fanno così e quindi attraverso una serie di indagini e anche di appostamenti come si faceva una volta pancia a terra dei carabinieri siamo riusciti insomma con un po' di fortuna allevarglieli e forse ho detto tutto non so se Procuratore io la ringrazio a nome di tutta la commissione sia per il quadro che ci ha voluto fornire del distretto sia perché ci ha dato diversi spunti anche sull'attualità sui quali lavorare credo che ne faremo buon uso spero che ne faremo buon uso anzi veramente queste audizioni per noi sono molto importanti quindi grazie del suo tempo e della sua disponibilità grazie a tutti voi grazie mille a tutti l'audizione è chiusa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti